Continuano gli appuntamenti con la Kermess Culturale al Castello. Ad intrattenere il pubblico del Settembre Culturale, lunedì 16 settembre, è stato Tommaso Labbate che ha presentato il suo ultimo libro, I Rassegnati. Devo fare complimenti perché mi sembra di vivere in una specie di film di fantascienza. Siamo arrivati, mi hanno accolto l'assessore e il sindaco. L'assessore e il sindaco hanno preso posto in platea senza fare i saluti. La rassegna è lunga, però io vengo dalla Calabria, voi per me siete svizzeri, siete come Enzo Cannavale in Nuovo Cineo Paradiso quando vinceva la Sisal e commentavano nella piazzetta del paese questi del nord. Quindi voi per me siete questi del nord perché effettivamente facendo una rassegna nel mio paese, Marini e Gesaglioni, che anche una rassegna lunga, giorni e giorni, sarebbe fantascientifico e impossibile immaginare il saluto di tutte le autorità dalla comunità montana al parroco, al capo della stazione dei Carabinieri, della Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Vigili Urbani. E invece sono esterefatto positivamente nel vedere che sia il sindaco che l'assessore della cultura hanno tranquillamente preso posto. Quindi mi corre l'obbligo di ringraziarli, cosa che non avrei fatto, ovvero avrei dato per scontato se fossero venuti a fare il saluto. Quindi vi saluto io da qua e vi ringrazio per l'edito come ringrazio gli uomini.